Ciao amici del Club delle Ricette, ecco come preparare dei golosissimi Profiterol al pistacchio. Iniziamo preparando la crema pasticcera al pistacchio, mettendo in un pentolino il latte, l'estratto di vaniglia e mettiamo sul gas. In un altro pentolino uniamo lo zucchero e i tuorli e montiamo con la frusta. Aggiungiamo poi la farina e la maizena e amalgamiamo per bene. Aggiungiamo il latte caldo a filo mescolando con la frusta, mettiamo sul gas e facciamo addensare a fuoco dolce mescolando. Togliamo dal fuoco, aggiungiamo la crema al pistacchio e mescoliamo per bene. Aggiungiamo il latte caldo a filo mescolando. Copriamo con la pellicola e facciamo raffreddare in frigorifero. Seguendo la ricetta che trovate sul nostro sito, prepariamo ora i bignè. Aggiungiamo il latte caldo a filo mescolando. Aggiungiamo il latte caldo a filo mescolando. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Prepariamo la chantilly al pistacchio, montando la panna fresca ben ferma. Grazie a tutti. Aggiungiamo la crema pasticcera al pistacchio. Mescoliamo per bene. Grazie a tutti. Trasferiamola in una sac à poche e farciamo i nostri vignè. Aggiungiamo la crema di pistacchio alla chantilly. Mescoliamo bene e poi immergiamo tutti i vignè. Disponiamo i vignè farciti e ricoperti su di un piatto da portata. E decoriamo con della granella di pistacchi. Ecco che i profiterol al pistacchio sono pronti. Per tantissime altre ricette, ricordati di scaricare gratis la nostra app.